Oggi ti porto la mia esperienza di come ho usato la paura di parlare in pubblico per creare uno speech che ho realmente portato di fronte a un pubblico recentemente ad un evento dal vivo, al WarCamp Verona. Con piacere presento Marco Salvo, esperto di content market. Buongiorno carissimi! Bisogno di sentire voi, ci siete? Io non ho sentito niente. Ci siete? Public. Speaking, parlare in pubblico, parlare di fronte al pubblico non è sicuramente una cosa semplice da fare. Eppure nel nostro settore, nel digital marketing, ci sono tantissime persone che giornalmente partono per andare ad eventi in qualità di relatori e relatrici per esprimere la propria opinione, per condividere casi studio, per condividere le proprie skill, eccetera, eccetera. Una cosa che dovrebbero fare un po' tutti, ma dietro questa azione si nascondono delle paure veramente grandi. La paura del fallimento, la paura di dimenticarsi il discorso, paura dell'imprevisto, di non essere all'altezza, paura delle reazioni durante lo speech. Vi confesso che più o meno dal 2012 ho iniziato a fare speech agli eventi in qualità di relatore. Mi hanno chiamato a diversi eventi, ho accettato, sono andato e l'ho fatto con piacere. Subito prima di salire sul palco, ovviamente l'adrenalina è a mille, ma questo è un fattore negativo da un lato ma positivo dall'altro, perché quando sali sul palco con l'adrenalina la trasformi in energia e poi diventa tutta una magia. E' successo invece che nel 2020 ho avuto un blocco, sì, proprio durante la pandemia, ho avuto un blocco di fronte alle call. Questo blocco di fronte alle call me lo sono riportato praticamente anche come paura di parlare di fronte al pubblico. E ho esorcizzato questa paura proponendomi come relatore, ultimamente, a un evento, un warcamp a Verona. Ho avuto il piacere di incontrare un sacco di gente, la community Warpers, eccetera, eccetera. Ma quello che mi permette di sottolineare è che sono andato di fronte alla mia paura e mi sono scavato la fossa da solo, perché praticamente ho parlato di public speaking per la prima volta in vita mia, quando sapevo di avere questo problema. Infatti prima di salire sul palco non c'era la sonnita adrenalina, ma i miei battiti erano a 145. Abbastanza inusuale. Diciamo che praticamente stavo andando fuori di testa, subito prima di salire sul palco, avrei voluto prendere una decisione immediata tipo non salgo, dico semplicemente ai organizzatori che non me la sento di farlo e me ne vado via. Ma la cosa bella è che quando è sul palco tutto si è trasformato. La paura è rimasta, ma tutto si è trasformato. O sono stato benissimo sul palco, sono riuscito a dire la mia, sono riuscito ad andare avanti, eccetera, eccetera, e sono riuscito a dare dei consigli alle persone che erano di fronte a me per combattere questa paura. Perché comunque è una paura che abbiamo tutti e perché comunque tutti siamo esseri umani. Avere un piccolo problema, avere un blocco o cose del genere, secondo me non deve pregiudicare il fatto che tu puoi andare agli eventi a parlare in qualità di relatore. Perché tutte le persone che non parlano e che non vanno a fare relatore non hanno da condividere nulla? Assolutamente no, non ci posso pensare né ora né mai. Sicuramente ci saranno un milione di persone che potrebbero condividere l'infinito, sia esperienze, casi studio, skill, eccetera, eccetera, o semplicemente un pensiero, condividerlo con il pubblico è donare un sacco di valore. Eppure non lo fanno perché l'autosabotaggio ti porta a non presentarti come relatore da nessuna parte. Ora, adesso io non voglio dirti che devi forzarti a fare questa cosa, perché per me non è stato affatto semplice. E non è un'esperienza bellissima quella di forzarsi. Io l'ho voluto fare, sono voluto andare contro la mia paura per combatterla, esorcizzarla, eccetera, eccetera. Ciò non significa che la prossima volta io non avrò le stesse paure. Eppure mi sono già candidato per un altro evento che sarà molto più grande. E non dico nulla, vediamo se mi accettano, poi magari ne riparleremo. E so che da quella parte ci sono tantissime persone che fanno video, so che da quella parte ci sono tantissime persone che vorrebbero condividere, e spesso fare video, stare di fronte a una telecamera o dietro a una telecamera, non è la stessa cosa di stare di fronte a un pubblico. Anche se pure stare dietro alla telecamera porta delle paure e dei blocchi abbastanza grandi. Insomma, ragazzi, mi piacerebbe sapere come voi vivete questa cosa. Siete persone che fanno autosabotaggio, che potrebbero condividere ma non lo fanno mai? Perché magari ne potremmo parlare, ok? Perché magari potremmo affrontare questi discorsi insieme. O semplicemente non vi va assolutamente l'idea di salire su un palco e condividere qualche cosa. Fatemelo sapere nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.